I nuovissimi episodi di Miraculous saranno davvero pazzeschi Con nuovi incredibili poteri Ogni miscela corrisponde a un nuovo potere E un segreto Impossibile In grave pericolo Non penserà davvero che Adrien possa essere Chat Noir? Non possiamo restare qui Miraculous! Quattro inventibili nuovi episodi in prima tv Dal lunedì 3 giugno alle 18.10 E su superfibu.it Ti aspettano le nuove clip del diario segreto di Marinette Non perderle!